Ciao, allora io mi chiamo Manuela Pia, ho 38 anni e vorrei testimoniare un pochino la mia esperienza. Sono membro Gold da giugno e diciamo che per me questi mesi da febbraio in poi sono stati un po' difficili perché ho subito una separazione, mi sono separata appunto a febbraio e la cosa più difficile è stata per mio figlio Ismaele perché lui ha 11 anni e non ha accettato per niente la separazione. È stato poi difficile riuscire a riavere un rapporto con lui, quindi abbiamo poi optato per un affido condiviso ma il rapporto con lui è stato difficilissimo, all'inizio non voleva nemmeno vedermi, non voleva nemmeno sapere che io ci fossi e addirittura a scuola gli sono venute crisi di panico e crisi di ansia, è stato molto male e da febbraio ad ora le cose sono migliorate e riusciamo adesso a vederci, lui viene da me lui è stato ovviamente il primo obiettivo per me, lui mi viene a trovare, facciamo i compiti insieme stiamo insieme, facciamo le cose insieme, guardiamo i cartoni, guardiamo un videogioco sul computer vedo che in realtà quando poi sta qui con me, lui sta bene, è felice, sta bene, lo vedo io vedo che stiamo bene comunque qua, facciamo le cose che facevamo prima, quindi questo è già un buon miglioramento la cosa sulla quale volevo portare l'accento è il fatto che io con la separazione sono rimasta in situazione economica abbastanza indigente, nel senso che comunque io sono un'insegnante, a giugno con la fine della scuola è finito il contratto ed è finito anche lo stipendio, io ho dovuto chiedere la disoccupazione e con la disoccupazione io non riuscivo, riuscivo a malapena vivere, infatti ho dovuto chiedere dei soldi in prestito ai miei genitori perché non ce la facevo nemmeno a sopravvivere, questo era anche uno degli obiettivi quello della mia indipendenza economica, di avere comunque un'attività mia, bella, che mi portasse comunque una rendita allora, in ordine di tempo, io avevo una panda vecchissima, di seconda mano e di 15 anni e ad agosto è arrivata la macchina nuova, del valore di 15.000 euro, comprata dai miei genitori cosa che non avrei mai detto perché i miei non mi hanno mai comprato nulla tanto meno la macchina nuova, neanche quando avevo 18 anni, che di solito a 18 anni si compra la macchina nuova no, non mi hanno mai dato niente, adesso è arrivata, nuova come la volevo io, l'ho scelta io e avevo una disponibilità addirittura di 30.000 euro io ne ho scelta una del valore di 15.000, quindi comunque voglio dire l'universo ci ha pensato e ha elargito parecchio, ecco. In più, il 29 di settembre mi hanno chiamato dalla scuola e mi hanno dato la conferma, mi hanno fatto firmare un contratto fino al 31 di agosto 2017 questo significa che io non avrò più problemi di disoccupazione perché avrò lo stipendio sicuramente appunto fino alla fine di agosto e a settembre ricomincerò la scuola quindi non dovrei avere nessun tipo di problema quindi è una notizia buonissima ma la cosa ancora più notevole lavoro in una scuola molto vicina a casa cosa che l'anno scorso non era così, facevo un sacco di chilometri lavoravo in tre scuole diverse e lo stipendio è pieno quindi è abbastanza buono quindi sono contenta ecco, la cosa di cui vi volevo parlare è che l'ultima cosa è che questo mese io ho firmato un assegno di 100.000 euro perché mia mamma ha deciso di aprire un conto e cointestarlo a me quindi io sono la cointestataria di questo conto ho il banco, ma a te ne ho la completa gestione questa è una cosa che non avrei mai pensato che potesse accadere pochi mesi fa invece è successa quindi nella mia vita sono successi tanti cambiamenti grazie al lavoro anche che ho fatto con Maria e Giuse sono cambiate tante cose in positivo e quindi devo ringraziarli davvero per tutto l'aiuto che mi hanno dato e che ci hanno dato che stanno dando a tutti noi che li seguiamo quindi grazie davvero Anna Maria e Giuse un abbraccio e un bacio ciao ciao Grazie a tutti.